Si rinnova una collaborazione molto importante con la federazione italiana Gioco Handball. Adesso siamo pronti per ospitare un altro grande evento di rilevanza internazionale, Lettonia-Italia, che sarà presente al Giovanni Polo II, giovedì 9 marzo alle ore 16. Io invito tutta la città di Pescara a questo grande spettacolo, importantissima per la qualificazione degli europei 2024. Quest'anno tra l'altro siamo impegnati come federazione anche nel collaborare alla realizzazione della cinquantesima edizione dell'Interamina World Cup a Teramo. È un momento molto importante perché è una ricorrenza fondamentale, è uno dei tornei più conosciuti e anche tradizionali in Europa che ha segnato comunque un'epoca dello sviluppo della palla a mano giovanile in tutto il continente europeo. E poi anche nella provincia di L'Aquila stiamo lavorando per riproporre questa estate, segnatamente nel mese di luglio, un torneo di preparazione quest'anno per la nazionale femminile Under 17 a Roccarasso, quella che l'anno scorso abbiamo denominato la Roccarasso Cup.